Buongiorno a tutti, benvenuti finalmente alla quinta puntata di Trading Days, un corso che vi serve per partire dalle basi della ciclica per capire come si muovono determinati asset, quindi criptovalute, oppure mercati. Vi presento il signor Cardano, qualcuno di voi lo conoscerà, il grafico è candele giornaliere, vediamo che cosa bisogna fare per fare una piccola squadratura. Innanzitutto bisogna prendere un periodo di tempo che non sia una roba difficile da leggere e in questo periodo di tempo, qui ne ho già fatto un pezzettino, identificare un minimo importante, ad esempio questa super spike, e successivamente andare a vedere come poter piazzare un tempo ciclico normale. Allora, fino a questo minimo qua siamo a 120 bar, mi piace, può essere un t più 4 semestrale. Fino a qui chiude un annuale qualcosa? Difficile? No. Fino a qui. 211 barre. Va bene. Vediamo qua. Una durata di 241 barre effettivamente può essere interessante per dire che da qui può essere partito, anzi da qui a qui può essere in essere, scusate il gioco di parole, un ciclo t più 5 che vuol dire annuale, perché un annuale può durare tra i 200 circa e 336 giorni, per cui qui saremmo in una tempistica abbastanza decente, bisognerà vedere se questo poi è un qualche cosa di strano che ormai marchiamo in blu e non sono i puffi. Allora, prima di tutto, abbiamo 241 barre, iniziamo a dividerele per 2 come tempo circa, o per 3 se parliamo di 3 tempi. Avevamo visto qua un 120 giorni, qui può già essere interessante, qui c'è qualcosa di più. Iniziamo a tenerci buona questa distanza, 120 giorni, quindi duplico, ottengo la probabile fine di un t più 4 qua e l'inizio probabile di un t più 4 qua, ovvero un ciclo semestrale e iniziamo a metterci dentro delle cose interessanti, ovvero ci prendiamo giusto due indicatori, il MAC da classico, ma in realtà ribadisco è una ciliegina sulla torta e ho già messo ICMOC e MAC. MA sarebbe la media mobile semplice a 50 periodi e sotto abbiamo la media mobile semplice a 200, giusto per avere un pochino di idee e guardare il grafico. Nella realtà dei fatti spengo un attimo l'ICMOC per averlo ancora più pulito il nostro grafico in modo da fare le cose in maniera ancora più semplice. Dicevamo, da qui a qui abbiamo un tempo che si può definire appunto ciclo semestrale, 120 giorni. Prima di tutto, da qui può essere partito un annuale? Se ci sono le condizioni, sì. Se abbiamo avuto un t più 3 trimestrale rialzista, sì, direi che lo abbiamo avuto. L'abbiamo avuto e come? Perché da questo minimo a quello successivo qui abbiamo avuto 59 giorni, che è già un trimestrale quasi medio ed è stato rialzista, ovvero il primo minimo non è stato violato a ribasso dal secondo, il secondo minimo è più alto del primo. Per cui da qui può essere partito un t più 5, ovvero un ciclo annuale. Come detto, qui può essere terminato un t più 4, per ora lascio soltanto qui il nostro t più 4, ma poi vi farò vedere una cosa. E se da qui è partito un t più 5, può essere partito anche un t più 3, ovvero un ciclo trimestrale. Da qui a qui possiamo aver avuto un secondo trimestrale? Come tempo sì, 62 bar, siamo nella media. può essere eventualmente durato anche fino ad essere andato 84 barre? No, 89, quindi questo è un pezzo che si isola dagli altri, d'accordo? E facciamo una cosa semplice, iniziamo a vedere se qui in mezzo ci sta una R, ok? Un raccordo. La cosa blu di cui vi parlavo prima, giusto per non fare inner jokes. Abbiamo a questo punto che, oltre al t più 5, da qui è partito anche un t più 4, il primo, da qui è possibile che sia partito il secondo t più 4, secondo semestrale, per cui se divido questo tempo del semestrale in due, come detto, circa, o fino a qua anche, perché questo è un minimo importante, ma questo è un minimo inferiore. Questo però è un minimo particolare perché ha meno spike rispetto a questo. Comunque, fatto questo possiamo allargare ancora un pochino il grafico e dire, va bene, quello che abbiamo fatto con il t più 5, ovvero suddividolo in due t più 4, ovvero prendo un annuale, lo suddivido in due cicli semestrali, posso farlo, come visto anche, a partire dai semestrali e trovare due trimestrali, primo t più 3, secondo t più 3, adesso dividiamo in due anche questo spazio. Abbiamo detto che dura 59 barre, attenzione potrei dividere per 2 o per 3. Andiamo a prenderci un minimo significativo circa metà, 30 barre, un mensile può durare 30 barre? Sì, ok? Per cui duplico, trasformo in t più 2 e lo coloro di rosso perché se questo è corretto siamo scesi sotto il minimo per andarlo a chiudere. E quindi il secondo di più 2 è diventato ribassista e ribassista. A questo punto possiamo prendere anche un mensile e scomporlo e vedere in settimanali quanti settimanali sono. Di nuovo parto da un minimo di un certo tipo, se arrivo a 10 barre, bene, questo può essere il primo ciclo settimanale fino alla candela rossa, mi raccomando, 10 barre, massimo 11 ne dura. Il secondo ciclo settimanale lo vedo già ribassista può essersi chiuso qui a 8 barre? Sì. L'eventuale terzo può essere andato in chiusura anche di mensile a 12 barre? Non mi piace molto. Può aver fatto un altro 6 barre, poi 2 barre sopra un minimo e aver fatto il quarto TI? Sì. Perfetto. Allarghiamolo per vederlo bene, d'accordo? Così vi faccio la scomposizione. L'ho fatta al volo perché non mi sono preparato completamente il video e quindi lo sto facendo dal vivo con voi proprio. Qui abbiamo il secondo T settimanale che può durare minimo 6, in media 8 e al massimo 11 giorni. Poi abbiamo detto che siamo arrivati fino a qua. Può durare 9? Sì. Può durare 8? Sì. Secondo fatto. Terzo ciclo settimanale. E questa volta quanto è durato abbiamo detto? È durato 6 giorni da questo minimo a questo minimo verde che però non includo perché fa parte del ciclo successivo. Questo lo sapete ormai, immagino. E vedendolo ancora meglio, facciamo così. Eccoci qua. Abbiamo il nostro quarto T. A questo punto però dobbiamo sempre verificare che le condizioni sufficienti per la partenza e la chiusura di un ciclo siano rispettate perché se no è sbagliata la composizione dei cicli. Ovvero, settimanale diamo per scontato che avendo avuto più di 6 barre minima e sopra questo massimo si è partito e abbiamo fatto partire anche un mensile e abbiamo fatto partire tutto il resto perché si è partito un T5 annuale e è partito tutto il resto. Il secondo ha avuto due candele o minimo 48 candele da 45 minuti sopra questo minimo, ma in realtà molto di più. Siamo andati sotto a questa candela, quindi il secondo c'è. Per chiudere un ciclo bisettimanale, primo settimanale e secondo settimanale, quindi bisettimanale, mi basta e avanza un ciclo T settimanale? Sì, nella realtà mi basterebbero due giorni di ribasso, un T-2 ribassista, quindi ci sta. Per far partire un ciclo bisettimanale, il terzo e il quarto T settimanali, insomma, in realtà non andiamo mai sotto, quindi sì, la condizione è rispettata. Per far partire il quarto T settimanale siamo stati perlomeno due candele sopra un minimo, sì, questa e tutta la candela rossa sopra questo minimo ci siamo stati, si è sceso. A questo punto abbiamo la condizione per la chiusura del primo T più 2 mensile, quello iniziato da qui e finito qui perché questo è il secondo. Per chiudere un T più 2, un ciclo mensile, sapete che ci vuole un ciclo di 3 gradi inferiore ribassista, un T meno 1, ovvero minimo 3 giorni sotto minimo o con un ciclo ribassista, da qua, da questo massimo, ne abbiamo avuti tanti, ben più di 3, da qui a qui. Ok? Quindi questo è un T più 2. A questo punto, se volete, fate una cosa molto semplice, io lo farò poi da parte mia per non tediarvi. Continuate a fare la stessa identica cosa con questo T più 3 e con le regole che vi ho dato, con le dispense. Se non avete ancora le dispense, chiedetemene, sono gratuite, per cui potete fare da voi una squadratura sapendo che ogni ciclo parte con un sottociclo di 2 gradi inferiori, quindi in questo caso T più 3 meno 2 gradi inferiori uguale T più 1 uguale bisettimanale rialzista, se ce l'abbiamo la condizione di partenza c'è, e chiude con un sottociclo invece di 3, non 2, 3 gradi inferiori ribassista, quindi un T più 3, questo è un T più 3, no? Questo è un T più 3, chiude con un T settimanale ribassista, e qui c'è tutto per dire. Per cui la condizione sia di partenza che di chiusura ce l'abbiamo. Scomponetevi per bene questo grafico, continuate con il resto, e se volete poi nei commenti qui sotto troverete la squadratura completa che farò, perché ho promesso a un amico appunto di occuparmi di cardano e ho detto ok, e da un po' che non faccio di video di Trading Days, ce ne sono già 4 a disposizione se cercate sul canale, se volete imparare la ciclica dalle basi, questo è il modo più semplice, invece che andare a prendere dei libri e iniziare a vedere se capite qualche cosa, e ribadisco, a ognuno il suo. Se io avessi saputo che con un solo corso, con una persona in gamba, avrei potuto veramente risolvere la questione pagando molto di più che comprando un libro, mi sarei evitato studi per 5 anni, 6 anni, 10 anni, eccetera, e avrei, diciamo, concentrato tutti gli sforzi per poter guadagnare molto di più e in più breve tempo, o evitare soprattutto tanti eroi che mi sono costati dei bei soldi, studiando soltanto i suoi libri. Ma ribadisco, nella mia vita non convinco nessuno di niente, do delle informazioni di valore, perché le informazioni di valore sono potere. Potere di che tipo? Potere di fare una scelta e dire, ok, mi sta bene così, ok, ho capito che cosa dici, preferisco fare in un altro modo. Vi ringrazio per il vostro tempo, vi auguro una splendida giornata, e mi raccomando, tenete d'occhio sempre il canale, perché arriverà un Trading Days 7, e buona squadratura. Arrivederci!